Il primo fattore importantissimo è l'azione. Ci sono donne che non fanno un'azione e quindi senza fare un'azione è normale che non si ottengono risultati. È un po' come se comprate la cyclette e poi non la utilizzate. Ok che fare cyclette, fare la passeggiata sul tappeto senza una strategia dietro, senza un'alimentazione bilanciata eccetera, non serve a niente, non è che fa dimagrire, se non abbinata ad un'alimentazione corretta, bilanciata e quant'altro. Però capite bene che se voi comprate la cyclette e poi la utilizzate come appendi abiti capite bene che non otterrete alcun risultato. Stesso discorso si applica ovviamente a quelli che sono i nostri percorsi. Se voi riuscite ad accedere a protocollo guerriera vincente perché decidiamo di lavorare con voi e voi insomma rispettate i requisiti e quant'altro e quindi lavoriamo insieme però poi non applicate il metodo, non seguite il metodo e che cosa volete? È normale che non si ottengono risultati.